Entusiasmante questo rialzo dei mercati delle criptovalute, anche oggi Bitcoin recupera la fase di ieri che era stata ribassista a causa dei dati sull'inflazione, li vediamo tra poco, ma non solo questo, si avvicina proprio alla zona ampia di quella che è la resistenza più importante entro il 18 di febbraio, quindi tra pochissimi giorni, ed è una resistenza che ieri sembrava aver retto, ma oggi la sta cercando di distruggere. C'è anche l'ultimo baluardo prima dei massimi storici della zona dei massimi storici di Bitcoin che potrebbe fare appunto da resistenza, ma c'è da dire ragazzi che siamo tornati stabilmente in questo caso, almeno nella giornata di oggi, vediamo se resiste almeno in chiusura della giornata, dovrebbe farcela sopra quota 50 mila dollari, una roba che non vedevamo dal 2021, 780 giorni al di sotto di questo livello. L'ultima volta che era stata vista questa zona era il dicembre del 2021, è passato veramente tanto tanto tempo. Eccolo qui, vi faccio vedere la distanza, 784 giornate, questo è un time frame settimanale, quindi non sono precise proprio al dettaglio perché sono a candele di 7, però ragazzi, importantissime a questa fase. Tutto merito dei... Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, lancio la moneta oggi con grande felicità, devo essere sincero, ed è uscita che si continua a salire, io ve lo dico in maniera chiara, però poi ogni tanto ci prende però, perché mannaggia la miseria, anche questa volta ci ha preso. Allora, tutto merito di questo grafico qui, il grafico dell'accumulo dei Bitcoin da parte degli ETF del... su Bitcoin stesso, gli ETF spot, che è straordinario, ragazzi. Allora, facciamo un escursus di questo grafico, su tutto quello che ci siamo detti in questo mese, vediamo come alcune cose sono andate a cambiare nel corso del tempo, fino infatti a questa zona qui abbiamo avuto una struttura di ribasso nel mercato delle cripto, perché? Perché le fuoriuscite di Bitcoin da parte di Grayscale, dell'ETF di Grayscale, non compensavano gli afflussi da parte invece degli altri ETF, soprattutto i primi tre BlackRock, Fidelity, Bitwise, anche ARK, devo dire, si sta difendendo un pochino. Per quanto riguarda invece la parte successiva, in questa zona avevamo anche, diciamo, fatto una serie di contenuti, ho fatto un paio di video dove avevo indicato che qualcosa stava cambiando, perché questo plus positivo di Bitcoin, non che fosse cifre enormi, ma se fosse continuato nell'arco del tempo dei prossimi giorni, avrebbe ovviamente impattato sui mercati. Quindi al di là di quelle che sono poi la serie delle news, delle questioni legate all'analisi di cicli e non cicli, questi tipi di informazioni impattano radicalmente su quelli che sono i prezzi, per una questione di domanda, offerta, di equilibrio di mercato. C'è anche da dire, a ragione del vero, che questo tipo di eventi avvengono una volta ogni 50 anni, io so ne di dire, perché sostanzialmente non è che fra un anno avremo nuovamente un'approvazione degli ETF Bitcoin che continuano a raccogliere. Quindi è anche vero che le news di questo tipo hanno impatto, ma è anche vero che le news di questo tipo hanno impatto su tutto, cioè la comandano su ogni analisi, su ogni cosa, però esistono una volta ogni tot anni. Quindi insomma, la stragrande maggioranza del tempo, il mercato, è molto più legato a quelle che sono le analisi e le aspettative degli operatori, piuttosto che ragioni di natura fondamentale. Anche perché ragioni di natura fondamentale così non possono uscire ogni volta. Però di questo ne avevamo parlato e dell'afflusso dei vari, della potenza, diciamo, dei vari ETF ne abbiamo parlato. La questione è finita, sembrerebbe di no al momento, perché guardate come continuano le accumulazioni, ma soprattutto anche negli ultimi giorni incredibili. Questi sono i giornate abbastanza rilevanti, ragazzi. E io non credo che sia ferma qui la questione, perché comunque 12.000 Bitcoin, 9.000 Bitcoin, 9.000 Bitcoin, 8.000 Bitcoin, insomma, sono comunque delle costanti prese di acquisto. Nella live che avevamo parlato sulla questione dell'albing e cosa sarebbe cambiato questa volta, io vi avevo posto l'attenzione e la pulce nell'orecchio, nel mio classico gergo Open Your Mind, che questa fase di salita poteva essere differente dalle turbulenze dell'altra, perché questo afflusso continuo di domanda, se sostenuto ovviamente, e dovremmo vedere se lo faranno ancora, nell'arco dei prossimi mesi, produceva un effetto tampone alle eventuali cadute. Questo effetto tampone si è verificato alla perfezione nella giornata di ieri. Tanto è vero che la giornata di ieri è iniziata, maluccio per via, anzi facciamo così, mettiamo un time frame leggermente più stretto, così lo vediamo nel breve, e si è trasformata in questa cosa qui, perché erano uscite delle news, adesso vi faccio vedere anche le news sul tasso di inflazione, così le commentiamo. Eccole qui ragazzi, allora le news sull'IPC annuale degli Stati Uniti, più alte del previsto, erano previste a 2,9, il tasso di inflazione annuale è più alto, anche quello mensile è più alto, quindi in linea di massima non è stato preso bene questo dal mercato, anche le scorte di petrolio, insomma, eccetera. In linea di massima questa notizia indicherebbe sempre la stessa questione, cioè che c'è in pratica una inflazione un po' più persistente, quindi questo ha causato questo down che abbiamo poi visto nella giornata di ieri. Down che però si è riassorbito molto velocemente. Down che è stato anche nelle borse mondiali, ragazzi, non solo nella questione dei mercati delle cripto, anzi vi faccio vedere per esempio quello che è stato evidente nei rendimenti dei titoli di Stato americani che risentono molto di questo tipo di questioni legate al tasso di inflazione e soprattutto sono anche degli indicatori importanti di quello che è la politica monetaria, molto più di tante altre cose in generale. Allora vi faccio vedere la questione di questo che è il ventennale. Ieri, nella giornata di ieri, queste sono le mie analisi, diciamo, di natura old market, ha toccato, vedete, bam, il massimo 4-6% di rialzo, quindi ha avuto un'impennata del 2,29%, il tasso di rendimento ventennale dei tresuri bond americani. Questo significa in pratica una cosa sola, spostamento più in là nel tempo della politica espansiva della federal reserve e quindi del taglio dei tassi della federal reserve e di conseguenza i bond, in questo caso i tresuri, a lunga scadenza reagiscono un po' male e quindi vanno a pompare, in questo caso, i rendimenti, che significa che scende il prezzo del tresuri bond. Detto questo, è significativo sul concetto di cosa si aspetta il mercato, cioè il mercato in particolar modo si sta aspettando, in questo caso, che ci sarà uno spottamento del taglio dei tassi e quindi di una specie di emissione di liquidità. Per questo i mercati l'hanno presa male e anche le crypto l'hanno presa male, anche perché abbiamo visto più volte Bitcoin essere strettamente legato alle emissioni di liquidità. Però, cosa è successo? La questione dell'ETF, che appunto continua ad accumulare importanti quantità ogni giorno, ha reso questo ribasso tamponato, tant'è vero che poi è iniziata una nuova struttura rialzista che addirittura, diciamo, si sta andando, diciamo, a sviluppare col superamento dei massimi precedenti che, insomma, erano avvenuti in questa zona qui. E quindi superamento poi e continuazione anche di questa struttura dei massimi. Aspettate che non riesco a mettere in quadro. Ok, ragazzi, scusate, ho sbagliato il time frame. Volevo farvi vedere un time frame di breve, infatti non mi veniva in mente. Eccolo qui, la fase ribassista che è avvenuta. Ok, allora stavamo vedendo un'altra zona. Allora, eccola qui la fase ribassista che è avvenuta. E quindi questa ripresa, in pratica, che abbiamo visto in questa zona è andata addirittura a superare i massimi di questa fase qui. Massimi che sono, erano, insomma, i 50.000 avevano fatto una leggera resistenza. Però guardate la velocità anche di riassorbimento della struttura che è normale perché è una reazione dei mercati a un dato negativo. E' anche vero che le reazioni ai dati negativi non sono persistenti e questo, diciamo, sono sempre short term. Però, ovviamente, magari possono essere delle scintille, delle micce che azionano poi dei movimenti ribassisti. In questo caso, quindi, l'impatto dell'influenza degli ETF si sente e come. Ora, continuazione di questo movimento al rialzo. Dove siamo arrivati? Andiamolo a vedere sulla parte del time frame settimanale. Ritorniamo al nostro time frame settimanale. Oddio, questo che cos'è? Non mi ricordo. Forse ho sbagliato il grafico, ragazzi. Volevo fare il dentro. Vabbè, vediamolo comunque questo. Questo lo cancelliamo e via. Ok, allora, a livello settimanale, che cosa si è andato a creare? Si è andato a creare un tentativo di superamento dei massimi della candela dell'11 giugno. Questo caso è avvenuto. Siamo a livello daily, siamo riusciti in pratica a romperli. Poi c'era stata la breakout, il tentativo di rientro in questa zona e poi il nuovamente breakout. Dobbiamo però mantenerli a livello settimanale. Io di questa cosa ho fatto anche nel mio blog, ragazzi, una analisi. Eccola qui, quindi, l'analisi pubblicata ieri sul blog di Trading On. Ragazzi, mi raccomando, seguite anche il blog. Ci sono news di continuo, tutto quello che pubblichiamo lo mettiamo sul canale Telegram. Vi lascio il link in descrizione, gratuito, ovviamente, con tutte le analisi in real time per essere sempre aggiornati molto, molto, molto velocemente. Allora, tutta questa zona qui, in pratica, avevo descritto, ecco, la questione legata alla settimana. E in più, ovviamente, c'è il video correlato. E questa è la questione che dobbiamo andare, in pratica, a controllare. Ora, ipotizziamo che questa settimana si riesca con tranquillità a superare questo livello e che quindi venga confermato il breakout dei massimi del giorno dell'ETF. Questo configurerebbe una cosa estremamente positiva, ovviamente, ma dove saremmo diretti poi a quel punto? Andiamo ad aggiornare quelli che sono i livelli di target, non in base alla questione legata al ciclo daily di Bitcoin, quindi al time frame più piccolo, ma a quello settimanale. Allora, i massimi, come vedete, era giusto per farvi vedere, della settimana del lancio dei ETF di Bitcoin. Se io vado a inserire una closed in termini di settimana, non risultano essere delle resistenze. E questo è normale. Perché? Perché in quel pezzettino di, diciamo, massimo, si sono registrati pochi scambi. Cioè, sono avvenuti pochissimi scambi, ragazzi. Quindi, in realtà, in realtà, questa zona di massimo è una fake resistance. Cioè, non è una resistenza importantissima, perché non ci sono volumi in questa zona, in quanto il mercato ha riversato immediatamente ed è sceso. Però è una resistenza minore, si definisce così, perché comunque ha fatto data up, comunque ha creato questo tipo di impatto, ma lì non sono stati scambiati veri, veri volumi. Cioè, è stato fatto un balzo, poi immediatamente mangiato. Quindi c'è poca roba lì, tra compratori e venditori. Questa questione qui la riusciamo a vedere con grande tranquillità se ne andiamo a mettere il time free settimanale con la close di linea. Allora, qui risulta evidente che dobbiamo alzarla, questa roba qui, a questi, che sono le ultime due resistenze adeguate, che vi dico anche tra pochissimo quanto valgono per me in questi livelli di resistenze, ed è, e sono proprio in area attuale. Cioè, nella zona, 50-2000 dollari. E is the last, the last resistance. Is the last resistance. Perché, ragazzi? È l'ultima resistenza prima, teoricamente, dei massimi storici. Sì, è vero. Però, quanta valenza questa resistenza? Allora, intanto, ragazzi, io dal mio punto di vista, questa questione qui, quella di maggio 2021, marzo-febbraio 2021, fino a maggio, la terrò in considerazione tanto e non quanto. Per me non è una zona di resistenza. La vera, vera zona di resistenza successiva è il massimo storico di Bitcoin incluso, che quindi è dato, in pratica, dai 65.000 dollari. e, diciamo, all'interno di questa fascia, guardate come è stato creato il grafico e poi, quando vi metto le candele, come appare evidente dove è indirizzato Bitcoin se continua questa fase. E poi abbiamo questa zona qui, che, in pratica, andrà ad essere indicativa di una zona di congestione interna. In pratica, se noi andiamo a rompere questo livello, che è il vero livello finale di questa scalata qui, rotta questa struttura, acceleriamo in questa zona, molto probabilmente intorno ai 56, e poi oscillerà tra 65.000 e 52.000 dollari per un po' di tempo, a meno che, appunto, non ci sia spinta per andare ancora più in alto. Questo è un dato di natura di analisi tecnica ed è quello che ci indica l'analisi tecnica. Tra le altre cose, molti hanno indicato anche la possibilità che si stia andando a creare, diciamo, una nuova fase ciclica. Anche io stesso ne ho parlato dal 22 di gennaio. Su questo poi ne parliamo in un altro video, però volevo farvi vedere questa questione. Quindi, il gioco qui, è bello il rialzo di oggi, ragazzi, è tutto bellissimo, sempre a favore di trend, mi raccomando, però ancora, ancora, è un piccolo passo, va fatto, lo so, te lo dico da un po', perché questa è tutta un'area di congestione e non possiamo esimerci da questa forza che il mercato deve avere. Bitcoin deve fare un ultimo passetto, ragazzi, lo deve fare nella prossima settimana, che sia, però noi dobbiamo entrare qui in questa zona. Entrando in questa zona, ti diamo un po' il sospiro di sollievo, poi ovviamente sempre analisi aleatorie sono, però un po' meglio siamo messi da un punto di vista di analisi tecnica. Finora, quello che è stato costruito può essere facilmente ancora ritracciato, perciò dobbiamo prestare massima attenzione, ovviamente, ripeto, sempre a favore di trend e su questo non ci piove, però questa è una zona importantissima a livello settimanale e vi inserisco anche quella che era la resistenza importante, importante, è sempre molto, molto importante, però diciamo non come questa successiva. Questa qui, che era la best resistance, invece è stata breccata, anzi, vediamo se vi faccio vedere il grafico che stavamo guardando, quella è stata breccata e abbiamo conferma, quasi, sicuramente, a chiusura della settimana sarà praticamente certa, avremo conferma di quel risultato e questa è innegabile. Eccola qui, ragazzi, da tutta questa zona, vedete, è stata strabreccata e siamo andati long. Poi, in questa parte qui abbiamo anche un'altra zona, avevamo anche un'altra zona di resistenza, ma questa giornata e se lo fa a livello settimanale ci porta sull'ultimo target che dovevamo avere, questa zona qui di 52. Quindi qui l'abbiamo abbandonata un po' di giorni fa e siamo, diciamo, a meno che appunto la settimana non reversa adesso, ragazzi, che scendiamo di nuovo così, ma insomma, non la vedo fattibile, vi ripeto, insomma, se dovremmo essere adeguatamente protetti da rientro in questa zona, ecco, mi sembra un po' strano. Ieri ce l'avamo vicini, ma con la giornata di oggi dovremmo aver confermato questo breakout in maniera definitiva di tutta questa zona. Va bene, allora ragazzi, detto questo, andiamo anche a vedere TH che sta facendo perché ha performato un po' meglio in questi giorni, si è avvicinato un po' meglio a Bitcoin, ma resta comunque al passo, cioè, o sale come Bitcoin, o peggio, non è che c'è la differenza. ETH ancora continua questa sua fase un pochettino laterale, vi faccio vedere infatti anche il super grafico dello spread, quindi della, eccola qui, ragazzi, non riuscivo a trovarvelo, il grafico del rapporto ETH-BTC, che questo è a livello settimanale, in questa settimana, guadagna un 2,50%, ma vedete, anche se siamo saliti tantissimo, ha recuperato un pochino dai giorni scorsi che aveva fatto questa fase, però resta un po' al palo e tra le altre cose è a livello di un supporto importantissimo. Questo configurerebbe un po' di pericolo. Quale sarebbe il pericolo? Ve lo dico in maniera molto schietta e sincera. Se Bitcoin dovesse invertire il trend e fare un trend short term di qualche settimana discendente, TH potrebbe fare molto peggio. E' questo il concetto che c'è dietro questo grafico in maniera molto semplice. Lo rivedremo poi nel corso delle prossime settimane, vedremo un po' cosa farà. A meno che, a meno cosa, magari qualcuno di voi dirà a meno di che, a meno del superamento di tutta questa zona, cioè del ritorno in pratica su questo canale discendente e il superamento di questo livello 0,06 per quanto riguarda THBTC. Solo in questo caso inversione di trend di forza relativa tra Ethereum e Bitcoin, attenzione a quel punto anche io stesso entrerò e farò switch su ETH per una buona parte dei Bitcoin per bilanciare il portafoglio di natura speculativa chiaramente creato per fare questa cosa. Allora, vi faccio vedere anche il grafico di Ethereum. Eccolo qui, quello naturale. Solo in questo momento sta tentando di superare il massimo dell'8 a differenza di quello che abbiamo visto su Bitcoin che è il massimo dell'11 di gennaio lo ha superato due giorni fa. Vedete, la differenza è un po' un po' questa. Qui in questo caso, invece stiamo tentando insomma in questa fase. Poi tra l'altro ETH aveva avuto degli atteggiamenti diversi anche rispetto a Bitcoin in questa fase. Quindi anche se sono simili rispetto al massimo di gennaio sono diversi in termini di intensità perché Ethereum era salito a gennaio molto meno di Bitcoin e quindi comunque questo era un massimo più basso quindi anche se qui stanno superando nello stesso modo quindi galoppo nello stesso modo c'è bella differenza ma tra le altre cose c'è una differenza importante tanto cancello ragazzi un po' di roba che non ci serve più c'è una differenza anche un po' importante in cosa? In questa area di congestione perché Ethereum non ha effettivamente molto spazio davanti perché ha questa zona qui e poi immediatamente questa zona qui c'è una serie di resistenze ancora difficili per la regina dell'ecritto prima di avvicinarsi alla sua vera zona che adesso possiamo andare a costruire per esempio anche in questo caso andando a utilizzare i livelli vari cioè qua abbiamo la prima vera resistenza 3.500 per Ethereum e poi successivamente l'altra quella importantissima i massimi storici a 4.000 4.700 dollari per quanto riguarda ETH quindi capite bene cosa significa siamo ben lontani da raggiungere il livello di resistenza che è questo qui che è lo stesso livello che Bitcoin in questo momento sta cercando di battere esattamente eccolo qui ragazzi è quello prima della nuova fase dei massimi storici invece Ethereum è qui invece di essere qui prima di entrare quindi guardate la differenza evidente in termini proprio di forza che è quella che poi vediamo in quel grafico che vi ho mostrato prima però attenzione perché questa cosa dovremmo tenerla sotto stretta osservazione quindi niente è cambiato da questo punto di vista cambierà in futuro io penso di sì assolutamente quando quando la storia degli ETF di Bitcoin sarà conclusa ma ancora non è così monitorate questo tabella Bitcoin su BitMEX sul profilo Twitter di BitMEX Research la pubblicano sempre loro è abbastanza accurata questi plus stanno diventando veramente imponenti ma attenzione perché la vera domanda sarà capire fra un po' di tempo qualche settimana cosa succede quando questi flussi diminuiscono oppure si fermeranno allora tutto lì sarà il discorso come se succede dovremmo stare a vedere lo vedremo insieme ciao ragazzi